L'associazione terramana dei consumatori Robin Hood denuncia un preoccupante aumento dei casi del doppio incasso da parte di società di vendita che avviene attraverso lo strumento del CIMOR. È un indennizzo che serve ai fornitori di energia per recuperare i crediti non riscossi. Un procedimento introdotto dalla RER ha volto a contrastare quello che a volte è definito turismo energetico, cioè la pratica di cambiare fornitore allo scopo di evitare la riscossione delle bollette non pagate. Per questo il nuovo fornitore è obbligato a riscuotere gli insoluti per conto di quello vecchio. Sono oltre 10 casi che possono essere assunti in tre tipologie. La società che ha erogato il servizio incassa le fatture, però contestualmente avvia il recupero di crediti direttamente o tramite società di recupero crediti e chiede nuovamente il pagamento di queste somme. E questo è già illegitto perché sulla base dell'articolo 7 del codice della privacy le società devono cancellare. Una volta che il soggetto non è più moroso e quindi una volta che le fatture sono state pagate devono cancellare le proprie banche dati o occultare questi clienti risultanti morosi perché il debito è stato pagato dalla società subentrante. L'altro aspetto invece più preoccupante per cui noi facciamo appello agli utenti di fare attenzione è il fatto che molte volte le fatture sono state pagate, molte volte c'è un accordo con la società di recupero crediti che già si è iniziato a pagare degli accordi alla società di recupero crediti per saldare il conto, molte volte si è fatto un accordo con la società uscente per una retizzazione e si sta pagando la retizzazione. Quindi è evidente che in questi casi si tratta di atti di carattere illecite perché c'è un illecito arricchimento da parte la società che incassa due volte per le stesse fatture. Tale misura, secondo l'Associazione dei consumatori, determina una serie di abusi da parte delle società di vendita. La prima delle quali è evidente qualora la fattura di chiusura sia calcolata su letture presunte, la seconda nel caso di contestazione del contratto. Tutto ciò a sfavore dei consumatori, serie e corretti. In genere quando uno passa da un operatore all'altro operatore è perché evidentemente ci sono delle problematiche. Molto spesso queste problematiche sono legate proprio sulla fatturazione perché non corrisponde al contratto o perché ci sono delle fatture in contestazione. Per cui appunto si paga un qualcosa per cui magari non è anche giusto pagare.